Palermo vive le condizioni dell'intero Paese, ancorché rispetto agli abitanti tra le città siciliane e tra quella che ha meno nuovi casi quotidiani. Ma quando si passa da nuovi casi quotidiani tra 20 e 30 al numero di 100 e 400, è chiaro che consola poco il pensare che in proporzione agli abitanti bisogna ridurre questa allarme. Io credo che oggi dobbiamo renderci conto che l'invito alla prudenza, l'invito a rispettare le regole è importante, ma se mi posso permettere non è sufficiente. La normalità è per definizione, siamo in pandemia, la normalità è incertezza e quindi chi ha dovuto assumere scelte in questo anno ha dovuto scegliere sapendo che viene incertezza legata alla natura cangiante del virus, la sua diffusione maggiore o minore. Ma è chiaro che l'invito alla prudenza è necessario, noi come amministrazione comunale, il sindaco, la giunta, abbiamo dichiarato che non parteciperemo a nessuna iniziativa pubblica e ormai da settimane la giunta si riunisce soltanto online e abbiamo limitato al massimo gli impegni istituzionali. Personalmente sarebbe d'accordo a una sorta di lockdown generalizzato per i non vaccinati che è precisamente quello che prevede il regime delle regioni arancioni che però diventano tali solo con un'occupazione importante delle aree mediche e delle terapie intensive. Io non sono un virologo, non voglio fare evidentemente l'apprendista stregone, ma francamente quando la smetteremo di alternare lockdown per non vaccinati piuttosto che Green Pass rafforzato, ma perché non si stabilisce la vaccinazione obbligatoria in questo nostro paese? L'abbiamo fatto per andare a scuola, lo si fa per andare a scuola, per l'opologo immunite, lo si fa per il vaiolo, ma perché non prevedere la vaccinazione obbligatoria? Certo. Credo che sia l'unica soluzione rispetto a questo problema. Credo che sia l'unica soluzione rispetto a questo problema.